Fibra ottica amplificata. E questa è la chiamata con il cellulare disposto alla stessa distanza, vicino e lontano dalla fibra ottica. Così è sulla verticale, così è nella fibra ottica, così è vicino alla fibra ottica e così è lontano dalla fibra ottica. Così è vicino alla fibra ottica e così è distante dalla fibra ottica. Così è senza luce nella fibra ottica, alla stessa distanza di prima.